Sei arrivato in una Piacenza ambiziosa, invece l'anno in cui tu sei arrivato avete fatto fatica a salvarvi, poi è iniziata una crescita tua e tutta la squadra, adesso siete in finale. Se ti ricordi ti avevo detto che a Piacenza volevo vincere qualcosa, quest'anno ci siamo riusciti, penso che abbiamo fatto fino adesso una grande stagione, la qualificazione in Champions, la Challenge, adesso questa finale di Scudetto che giocheremo, perché ce la meritiamo tutti, e quindi bravi noi, bravi noi perché affrontare Macerata non era facile stasera, non è stato facile nelle altre partite precedenti, basta guardare la regular season dove abbiamo comunque perso, però comunque stasera siamo stati bravi nei momenti difficili, ad avere un ottimo cambio palla e riuscire a mantenere i break che facevamo in battuta. Monti ha detto che nella serie probabilmente siamo stati più forti come testa. Sì, 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 secondo me sì, perché anche stasera è capitato che eravamo sotto 1-0, è perso i vantaggi, però eravamo concentrati, tra di noi c'era tanta tranquillità, serenità e abbiamo giocato meglio che potevamo e alla fine è arrivata questa stupenda vittoria. Macerata ha tirato forte e tu hai ricevuto bene, ha provato a metterti in difficoltà con la flotta e hai ricevuto bene lo stesso. Eh no, sono contento, sono contento perché diciamo che io molte volte faccio il lavoro scuro, quello che si vede meno, quindi ogni mia cavolata, diciamo tra virgolette, essendo un ruolo importante, diciamo come il portiere viene messo sempre in evidenza, però diciamo che il ruolo del libero è bello anche per questo e niente, sono contento, se io prendo una palla e poi gli altri fanno punto sono felice, più io che loro, quindi va bene.